Trova Francesco e porta una robetta Suonala per richiamare gli invitati Appena ragionati gli invitati Legge l'altavoce E la... Decima trappa E' un freddo Va bene, ti ti fa Cosa vuoi? E' del crone E' la decima trappa E' spogliato delle testi Ora si che è merda E' un freddo che sta avvenendo Ma? Molte delle quali mi è stata i minori Ma? E' un freddo e quindi dobbiamo pregare su altro E' un freddo che non si sta avvenendo E' un freddo che sta avvenendo Eh, non lo sapevamo Chiedo certamente a Francesco di formare due squadre Due squadre Di cinque o sei persone Di cinque o sei persone Per contare fino a scadone Una dei giudei e l'altra degli apostoli Di apostoli Vabbè Cinque o sei Quanto te ne pare? I giudei sono Vabbè c'è il capo Vai giudeo 5 o 6 persone Poi giudeo è Francesca Poi giudeo è Federico Poi giudeo è pietra Vai Tutti maschi Ma poi io non sto facendo la pietra E' chiaro Non c'è capito E' l'avventa ragazzi Guardate all'avventa Quanti ne siete voi? Siamo Siamo cinque Tutti insieme All together Poi i apostrofi Gli apostrofi I tuoi apostrofi E questo vuol dire che Io me l'ho ripartito Poi siete gli stronzi Gli apostrofi Gli apostrofi Gli apostrofi Gli apostrofi sono Grazie Vai Alle suzame Alle suzame Poi Gabe è un apostrofo Poi Simone è un apostrofo Gli apostrofi Mi manca uno Scusa Marte è un apostrofo Vai Ora che le due squadre Sono state formate Si sfideranno In un rubabandiera Viva la storia Gli apostrofi Pia Pia Ogni volta Ma infatti Io voglio una cosa Perché io gioco a tutto Tutti Dai Alle suzame Mettiamo tutti Oh ma non mi avete fatto De finì Ma vaffanculo È la parte importante Vai Oh Giudei Tu qua Che state Vieni un po' di giudei Vieni 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 Sì Vieni 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 Jacopo Giudei 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 Ma che c'è da fare? E' brutto Ti riesco a fare? E' brutto Oh C'è un po' di giudeo Ponsio Ponsio Guarda eh Petru Il momento in cui solo cazzi tu arriva ora Ogni volta Ma è il numero E la bandiera verrà giudicata dai giudei Oh ma è la stessa Uno, due, tre, quattro No Uno, due, tre Oh non vi sto a segnare due Mi sto a cazzo contando Non vi sto a segnare due Uno, due, tre Lo credo di sette Nove, dieci Sono nove Uno, due, tre Sette, otto, quattordici тепure Come contano gli ingegneri? Chi vuole giocare? Lui Vai 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 Vuoi trovare un' Stefano Gio Francesco dovrà togliersi l'indumento di Dossu, la giudicassero gli apostoli, i suoi beniamini lo avranno salvato e Francesco dovrà solamente bere Ognudo apriamo! Beh Fili perlomeno dammi la felpa perchè se no mi ritrovo petto gnudo Ma no si deve spogliare lui! Lui si spoglia lui! Lui si spoglia lui! Noi si spoglia loro ti sbronzano tranquillo! Sei in buone mani! Chi è l'uno? Io sono io! Io sono 16! Insieme a cosa? Allora facciamo così! Uno! Asta le mani uno! Dai ce la facciamo, ce la facciamo! Abbiamo visto il mio avversario! Quattro! Grazie, grazie! Cinque! Hai barato! Gesù sta barando! Gesù sta barando! Mi sento la schiena! Mi sento la schiena! Mi sento la schiena! No! Ma due! Due! Ma perchè due? Vedete la barata! E' per parlare chiaro! Ma è al contrario! No! Ah sta riuscita! Stavate zitta! Vabbè! Doveva essere a tempo sta colpa però! No va bene! Passeggiato di salute! E' troppo di merda! Una passeggiata! Ma poi ti hai preso il bicchiare grosso! Un mare! Dai Danny! Dove sei fai bari! Lui c'ha il bicchiare serio! No! Lui c'ha il bicchiare serio! E' lui! Ce l'avete fatta però eh! Ma quindi siete un'unica squadra! Non faccio male! Non faccio male!